Tanti elementi tutti uniti in un'unica casa, articolata in più ambienti e per questo più spaziosa e moderna, grazie all'ingente investimento previsto dalla Camera di Commercio di Torino. Sono circa 25 milioni di euro che, mettendo insieme gli investimenti, ovviamente il più significativo è quello dell'ex Borsa Valori, che verrà completamente ristrutturato, specialmente nella sua sala principale, che è la sala delle grida, che verrà quindi spazio per grandi eventi anche con un grande numero di persone. Il sociale come sfondo, ma anche in primo piano. L'impatto sociale sarà protagonista dei servizi di questi nuovi spazi, con la presenza della Borsa Sociale di Torino, quindi trasformare la Borsa Valori in Borsa dei Valori. Si chiama Innovation Block, che diventerà l'area di sperimentazione innovativa messa a punto per tutte le imprese torinesi, la comunità cittadina e anche quella regionale. Un investimento molto importante della Camera di Commercio di Torino, che va nell'ottica della strategia di sviluppo che stiamo perseguendo, che è quella di dotare Torino di funzioni importanti, ospitali per il mondo delle imprese, dell'innovazione e delle università, che sono davvero la vocazione del futuro su cui stiamo lavorando. Gli edifici sono oggetto di un complesso intervento di riqualificazione e rigenerazione e avranno molteplici funzioni. È un progetto che non solo implementa l'uso del volume stesso della Borsa, ma facilita anche l'uso e integra tutte le funzioni che attorno a lui esisteranno ed esistono, quindi la piazza, il forum di Torino incontra e i giardini.